Oggi il premio dell'atleta più combattivo in campo per il rugby San Donà è andato a Giorgio Bacchin quindi complimenti Giorgio per aver vinto il premio Color Market, uomo più combattivo Grazie, è stata una partita molto difficile quindi sono contento di averlo vinto da un lato un po' triste per il punteggio perché per come stiamo lavorando non ce lo saremmo meritati purtroppo abbiamo dei limiti grossi, dobbiamo lavorare ancora di più con tanta umiltà a testa bassa e sono sicuro che prima o poi il lavoro verrà fuori i ragazzi ci sono, le potenzialità ci sono, il gruppo c'è purtroppo siamo stati sfavoriti dal punto di vista della mischia soprattutto, mischia chiusa e anche i calci di punizione, cosa che va giustata assolutamente quello è solamente merito nostro, scolpa, più che merito però sono sicuro, ripeto, che prima o poi verrà il momento in cui ci riscatteremo in cui riusciremo ad esprimere al 100% il nostro gioco quindi per la partita della settimana prossima contro il Piacenza bisogna cercare di replicare il grande primo tempo di oggi e poi tenere alla distanza cosa che invece oggi non è avvenuta esattamente, purtroppo abbiamo visto un calo soprattutto a livello di testa nel secondo tempo non so neanche dovuto a cosa, sinceramente, certo è difficile giocare una partita subendo sempre nelle fasi statiche in particolare in mischia perché comunque la tuscia non è andata male però sì, questo calo non è giustificato, non so a cosa sia dovuto sicuramente faremo meglio la prossima partita, ne sono sicuro quindi noi ci segniamo queste parole che sicuramente Sandonà farà meglio dalla prossima partita intanto complimenti per aver vinto il premio e essere più combattivo comunque è sempre una cosa di cui andare fiero grazie grazie mille ciao, grazie